Noi sapevamo che dove potevamo fare delle cose le abbiamo fatte, quindi senza entrare troppo in merito. Sono giocatori che hanno voglia di capire, hanno voglia di ampliare il proprio bagaglio di conoscenze, hanno voglia di ritagliarsi un piccolo o grande spazio da protagonisti, quindi stiamo lavorando in questa direzione. Oggi abbiamo fatto una buona partita perché i numeri dicono questo, dicono al di là del 3-1 abbiamo fatto 19 tiri contro due e i due tiri sono stati uno il gol e l'altro al 92esimo parata di Micai, quindi sono numeri abbastanza importanti. Tutto questo condito da un buon 70 minuti, 75 buoni, di cose buone. Abbiamo concesso campo e palla per 10 minuti della ripresa, i primi 10 minuti della ripresa dove abbiamo subito gol e questo secondo me è evitabile, ma poi di positivo c'è stata una reazione violenta da parte della squadra che voleva a tutti i costi fare il risultato, quindi direi che oggi sono stati tutti tanti segnali importanti per il nostro futuro, che non significa, l'ho detto ieri in conferenza stampa, lo ribadisco adesso, siamo se no se il 5-60% di quello che noi possiamo fare e molti di questi giocatori non lo sanno neanche loro quali sono le loro potenzialità, stiamo lavorando per tirargliele fuori piano piano, del resto quando si riparte da zero, si costruisce da zero, bisogna avere il tempo necessario per farlo, però direi che in 30 giorni, con l'80% dei giocatori nuovi, in 30 giorni direi che hanno fatto un buon lavoro per essere a questo punto oggi, poi è chiaro che c'è ancora molto da lavorare. Cosa le ha chiesto la società dopo la sofferenza dello scorso anno con Ventura in panchina? Non si può fare un programma di minima? No, il programma è che prima di tutto bisognava ricostruire, perché se non ricostruisci non puoi parlare neanche di obiettivi, quindi vediamo se riusciamo a ricostruire, perché è fondamentale. Una volta che abbiamo ricostruito ci sediamo e parliamo anche di obiettivi, adesso l'obiettivo primario, cioè tu non puoi mettere le lampade firmate se prima non hai buttato giù le fondamenta, poi non hai tirato sui muri, poi hai messo i vetri antirumore, prima devi fare le cose fondamentali, una volta che poi hai tirato sulla casa i dettagli, ci sediamo, li affrontiamo.